Di voi, vai. Ciao amica, nella tua canzone Happy Ending parli di una persona che non ha speranza oppure crede in un lieto fine. E io ti volevo chiedere, tu ci credi nel lieto fine, nell'amore a prima vista e queste cose che si dicono nelle favole oppure sei più realistico? Ah no. 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 Le favole sono belle però quando sono troppo pulite, anche sono divertenti. Io non voglio vedere la seconda parte di Cenerentola. Io mi piace la versione con tutti i toppi che cantano, che bailano. E non quelli che mangiano Cenerentola. Sì, con Cenerentola che arriva con i principe, tutto va bene, tutte le sorelle fanno schifo, sono buttate via, diventano quelli che puliscono tutto. Io non voglio vedere la seconda parte dove loro fanno il divorzio e litigano con i bambini e tutto Cenerentola diventa molto ossessionato con il suo Lu che fa la botox. E a volte dopo lei scopre che lui è andato con un'altra ragazza e dopo con un altro ragazzo e dopo tutto diventa la realtà. Non voglio sapere la realtà. Io sono contento. Allora anche se la vita non è una favola, non credo, è bello quando è presentato bene. Una favola. Grazie. 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 Grazie.